Una mattina si svegliano e non trovano più il cassonetto dei rifiuti indifferenziati. Per i residenti di Via della Leutine, ad Ostia, l'iniziale stupore ha presto ceduto il passo all'incredulità e infine alla rabbia perché da allora sono trascorsi quasi due mesi. Siamo rimasti perché una mattina ci siamo alzati e abbiamo trovato un mucchio di buste per terra e non c'era più il cassonetto. Allora speravamo che lo riportasse nel giro di qualche giorno eccetera. Poi abbiamo sollecitato, abbiamo chiesto al personale, diciamo adesso lo riporteranno. Non si è più visto nessuno. Qual è la conseguenza? Che alla notte qui si ammucchiano 30-40 buste per terra, viene abbandonata l'immondizia e la finestra della camera mia sta a 8-10 metri. Ho cercato di telefonare a 0606 il comune, mi hanno messo in contatto con l'AMA qui a Ostia. Un quarto d'ora mi hanno tenuto dicendo di tutto, vi è registrato la cosa, se è un reclamo deve fare questo, deve spingere questo, dopo un quarto d'ora, 20 minuti mi hanno detto guardi qui ho occupato, riprovi, riprovi, ho riprovato molte volte, non si parla con questi signori. C'è ben poco da ridere però voi avete appeso un cartello che fa un po' di ironia insomma. Beh sì perché chiaramente per far capire qualche cosa ai nostri politici tra virgolette bisogna fare queste azioni di forza perché altrimenti non hai un riscontro perché vorrei da domani che il politico o l'AMA chi per esso si prenda carico di questa situazione qua. Io per esempio ho mia moglie che è cardiopatica, ha fatto un intervento importante al cuore e a monnezza la devo portare giù io, adesso dico una stupidaggine e dato che qua non c'è e solo abito qua davanti, devo fare 150 metri, se li fa mia moglie che cosa accade? Che le segnalazioni cadano nel vuoto è storia perché lei due anni fa ormai è stata in contatto col comune ma si è risolto per poco. Mi fa sono andata all'ufficio relazioni col pubblico del municipio Decimo e hanno accolto la mia segnalazione e le persone preposte a quell'ufficio mi hanno detto che avrebbero attenzionato due servizi diversi, il servizio giardini, il servizio del territorio, il servizio della pulizia eccetera eccetera e però nella lettera copia che mi hanno consegnato c'era scritto mi avrebbero dato una risposta entro 30 giorni, sono passati più di due anni perché mi pare che sia di marzo del 2016 questa mia segnalazione. Il contratto di servizio dell'AMA non contempla la raccolta dei rifiuti lasciati fuori da Cassonetti dunque possono passare anche diversi giorni prima che qualche operatore mosso a pietà si decida a rimuovere i sacchetti da terra, al di servizio poi si aggiunge l'inciviltà di qualche residente che in perterrito continua ad abbandonare materassi e altri ingombranti.